Un milione di euro per la digitalizzazione delle imprese. La Camera di Commercio di Arezzo Siena ha infatti pubblicato sul proprio sito due bandi per agevolare le aziende che decidono di investire in tecnologia. Oggi più che mai con un processo che appunto il Covid ha accelerato è sempre più necessario avere a disposizione delle forme di presenza ovviamente sui mercati che non sono anche quelle tradizionali ma sono anche quelle legate alle commerce, comunque la capacità di proporre cataloghi, di utilizzare i social e ovviamente essere evidentemente adeguatamente al pari con i tempi. Quindi finanziamo le spese che le aziende sostengono con le voucher a fondo perduto che diamo anche in modo molto importante e cerchiamo appunto non solo di dare un segnale sotto l'aspetto economico ma soprattutto anche di riconoscere un finanziamento anche alla formazione che necessita tutto questo. Il primo bando, Voucher Digitali 4.0, prevede l'utilizzo di voucher che cofinanzieranno progetti di digitalizzazione attivati dalle aziende. Dà la possibilità per tutte le imprese che hanno sostenuto in questo periodo delle spese per la digitalizzazione, approvvigionamento di hardware ma anche di software, formazione, consulenza per, sto pensando all'e-commerce ma anche allo smart working e sono tante anche le attività che le nostre imprese hanno nel settore della digitalizzazione sostenuto sull'industria 4.0 per esempio e tutto quello che ruota intorno al settore digitale. Ecco, chi ha sostenuto queste spese a partire dal primo febbraio di quest'anno potrà presentare la rendicontazione e ottenere un voucher quindi un contributo a fondo perduto che va a finanziare il 70% di queste spese e nel limite di un investimento di 5.000 euro quindi su 5.000 euro noi faremo appunto un cofinanziamento di 3.500 euro con un minimo di 1.000 euro dell'importo di voucher. Le domande dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2020 e comunque fino ad esaurimento di risorse disponibili Il secondo bando, Restart 2020, è invece rivolto a finanziare misure progettuali a sostegno della ripresa del tessuto economico produttivo del territorio colpito dalla crisi a seguito dell'emergenza Covid-19 anche in questo caso le domande dovranno essere presentate entro non oltre il 30 settembre 2020 a presto